Con uno scatto dribbla la stampa ed entra di corsa in albergo. Ecco la prima apparizione in pubblico di Beppe Grillo dopo la scomparsa di Casaleggio. La fa a Roma, da dove stasera riparte con il suo spettacolo. Ricordo personale dal palco dell'amico e cofondatore del Movimento. Domani fare il punto politico con alcuni parlamentari. Tra i temi anche 5 Stelle rispetto all'Europa. Oggi Di Maio a Londra ha incontrato il leader dei laburisti Corbyn. Sul fronte Roma Grillo vede la candidata sindaco Virginia Raggi. Poco prima la pubblicazione della lista con i nomi dei consiglieri in corsa per il Campidoglio. Ricandidati tre ex consiglieri 5 Stelle, De Vito Frongio e Stefano. Abbiamo parlato di Roma e soprattutto di tante idee che già sono diventate realtà in altre città del mondo. E quindi della possibilità di esportare modelli a Roma, esportare modelli vincenti. Tutto si può fare, ma città per esempio che già hanno puntato sulle energie rinnovabili. Batte il territorio il candidato.